Benvenuti da Claudio Brachino a questo nuovo appuntamento con Primo Piano, rubrica dell'agenzia Italpress che vi porta nel mondo dell'attualità attraverso il racconto dei protagonisti. Nei vari settori, dalla politica, all'economia, allo sport, all'editoria, al sindacato. Parlo di sindacato, uso sempre l'ultima parola per introdurre l'ospite perché vuol dire che è il settore giusto della puntata. Ci ho avuto a trovare un leader sindacale importante, Rocco Palombella, grazie di aver accettato il nostro invito. Già da un po' di tempo, dal 2010, segretario generale della Wilm, che è Unione Italiana, lavoratori metalmeccanici. Quindi i metalmeccanici, una delle categorie dell'immaginario sindacale. Io quando ho cominciato a fare questo mestiere avevo un direttore del personale che veniva dai metalmeccanici che secondo me odiava i giornalisti. Mi disse, ma lei perché vuole fare giornalista? Ho detto, ma lei perché mi fa questa domanda? E io non voglio fare il metalmeccanico, voglio fare giornalista. Però ancora me lo ricordo per dire che all'epoca chi veniva da quel mondo aveva delle, come si dice, delle asprezze, delle durezze che a mal si applicavano in poche parole, secondo lui, ai capricci e ai vizi del mondo giornalista. Io ancora questo è un piccolo ricordo personale che c'entra poco, però ne parliamo poi anche dell'immaginario. Comunque è un'associazione importante, quasi due milioni di iscritti, gestite, se l'ho letto male, ben sette contratti nazionali di lavoro. Quindi stiamo parlando di una rappresentanza importante. Quindi la prima domanda riguarda il blocco dei licenziamenti, che è considerata uno dei grandi temi di questo 2021. Con questa data che si sposta sempre in avanti, sicuramente a protezione, e tutti però lo aspettano con il momento come poi se fosse una specie di tempesta perfetta. Quindi con migliori di persone che si ritroverebbero, faccio io una piccola interpretazione, in mezzo alla strada, con questo capitalismo cattivo, poi invece le imprese difendono questo diritto per dire che con il nuovo contesto, con il Covid, eccetera, è necessario farlo. Allora io le dico, al di là della data o meno, insomma, me l'avete suggerito voi questo, mi piace questa immagine, è come dare un calcio alla lattina per spostarla, o conviene affrontarla e dividerla per settori e vedere quali sono i problemi dei settori per dare delle risposte forse anche meno drammatiche o meno collettive. Qual è la sua idea? Ma intanto io grazie per questa opportunità, per questa occasione di dibattito, libero con la possibilità di poter anche colloquiare con i cittadini, non solo con i lavoratori a cui noi ci riferiamo. E lo facciamo sicuramente in piena libertà, nella possibilità di esprimere opinioni e anche responsabilità di rappresentanza che ognuno di noi ha. Il blocco del tema, i temi che lei ha posto, sono dei temi sicuramente interessanti, che non si possono liquidare con un sì e con un no, ma vanno per un attimo brevemente argomentati. Il blocco dei licenziamenti è sicuramente stata un'occasione importante da parte delle organizzazioni sindacali confederali per evitare un disastro da un punto di vista sociale. Però in questo anno ci sono stati circa 600 mila contratti a tempo determinato che si sono bloccati, ci sono andati a conclusione. E la maggior parte di questi 600 mila appartenevano a categorie un po' più fragili, donne e giovani. L'abbiamo letto purtroppo. Era comunque un'opportunità di lavoro e anche dignitosa, perché riguardava anche una parte di servizi, una parte legata al turismo, ad attività. E quindi si sono persi. Poi nelle aziende manifatturiere e metalmeccaniche, la stessa Federmeccanica, che è l'Associazione Editoriale e Assistal, hanno quantizzato che nel periodo di pre-crisi e di Covid si sono persi altri 300 mila posti di lavoro. E 600, più 300, seggiamo qua vicino a un milione. Un milione di posti di lavoro. Bene ha fatto Ciceli Gislewil e il governo Conte e adesso il governo Draghi hanno ritenuto questa richiesta da parte sindacale una richiesta giusta. Cioè quella di sospendere le procedure di avvio di licenziamento, di cassa integrazione a zero ore. Quindi è servito, io sono convintissimo che è stato un intervento necessario, come in aggiunta a questo la proroga anche della cassa integrazione, l'estensione anche a categorie che non ne avevano diritto. E' servito ad originare una fase che poteva essere molto più drammatica di quella che è stata. Però è chiaro che noi siamo consapevoli e abbiamo... Scusi se metterò un secondo e non le faccio perdere il filo. No, no, no. Avete fatto un calcolo al di là di questi numeri già drammatici che mi ha detto? Mettiamo che il governo decidesse di farlo finire oggi, no? Di sbloccarlo oggi. Avete quantificato quanti sarebbero i posti di lavoro quasi in contemporanea che si perderebbero? Con Findustria e la stessa Federmeccanica parlano di 500 mila posti di lavoro che si verrebbero a perdere. Che si aggiungerebbero i 900 mila, sarebbero un milione e quattro. Dei posti di lavoro. Allora, noi non vogliamo assolutamente dare l'impressione di accontentarci dell'idea che continuare a stare sempre più avanti, perché più si sposta avanti vuol dire che più il problema diventa complicato, vuol dire che la pandemia continua ad andare avanti e quindi siamo sempre in una situazione di emergenza. Tant'è vero che una delle dichiarazioni che ha fatto lo stesso per Paolo Bombardieri è stata quella che fin quanto ci sarà la crisi pandemica vanno mantenute ed è chiaro che è una dichiarazione forte, però noi siamo consapevoli e per questo noi abbiamo chiesto al governo, oggi abbiamo fatto partire una lettera, altrimenti ci autoconvocheremo al Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, perché noi vogliamo discutere delle crisi aperte. C'erano 160 tavoli di crisi aperte già prima del Covid, adesso non siamo in grado di quantizzare. Il vostro interlocutore nella prima fase del discorso era Orlando, in questa parte del discorso è Giorgetti. Giorgetti è Orlando del Lavoro, prima c'era Patuanelli, Patuanelli ancora prima c'era… No, ma c'erano gli interlocutori attuali. Sì, gli attuali sono Lavoro, Lavoro e Sviluppo Economico. Noi abbiamo indirizzato una lettera a loro proprio nella giornata odierna e abbiamo chiesto di essere ricevuti, di essere ricevuti perché noi non vogliamo prendere tempo, aspettare tempo, perché una proroga così, senza nessun intervento, significa spostare e caricare sempre di più questo fenomeno dirompente. Quindi noi abbiamo fatto questo tipo di operazione, la prima è provare di mettere in sicurezza e legare ancora i lavoratori alla propria azienda, perché staccarli dall'azienda significa non recuperarli più. E poi provare a trovare delle soluzioni. Quali possono essere le soluzioni? Noi ci auguriamo che questa pandemia gradualmente possa ovviamente lasciarci e provare a preservare il nostro sistema industriale, perché noi continuiamo ad essere ancora il Paese a seconda manifattura in Europa, abbiamo aziende di eccellenza e abbiamo la necessità di non depotenziare, di non perdere quelle professionalità. Per non perdere ci sono diverse leve. Una leva importante può essere quella dei contratti di solidarietà, i contratti che riducono l'orario di lavoro per far lavorare più persone. Quindi ci sono delle leve che si possono utilizzare. Mi fa un altro esempio, perché questo l'ho già sentito, mi fa un esempio di tecniche sindacali, di quali sono le vostre altre proposte. Le proposte nostre sono intanto la produttività in questo Paese, tutti dicono che è una produttività bassa. La produttività bassa ha un suo cardine, che non è solo l'utilizzo delle persone, mai come in questo momento in una società dove i tempi non li determinano le persone, lo determinano le macchine. Quindi utilizzare le macchine per il tempo necessario, ma utilizzare invece le persone, dandogli motivazione. Cioè se non si cambia l'idea che il lavoratore non è un costo, il lavoratore è un investimento. Cioè non è il Ciputi di tantissimi anni fa, quando erano i pezzi e la macchina che determinava i ritmi, è l'intelligenza del lavoratore. Quindi noi riteniamo che bisogna investire sul lavoratore, sul lavoro, ma sul lavoratore, sull'innovazione. Ecco, faccio una prima deviazione. Queste interviste hanno un percorso logico e delle piccole deviazioni che io mi riservo, nel punto che hai detto è un po' la caratteristica di questo primo piano, che è un primo piano linguistico ed è un primo piano sociale. Me la costringe quasi filosoficamente. Perché dicevo poi che quando parliamo di metallo meccanici parliamo di un immaginario che se non andiamo a vedere la catena produttiva è un po' il Novecento, la civiltà industriale classica, a cui si applicavano anche alcune categorie economiche e sindacali classiche. Molti dicono, e io sono uno di quelli che sostiene che quello è quello che è successo, che noi con il coronavirus siamo entrati in una, si chiama in economia una disruption, cioè un passaggio violento, con shock, al di là ora del fatto sanitario, da un mondo analogico a un mondo digitale, diciamo con una decina d'anni di accelerazione. O di ritardo. Uno dei programmi che io ho fatto, se sarà il Maristo, si chiama Topsicet, io da parentesi sono non un complottista, ma un teorico dei complotti, si potrebbe pure dire che chissà come mai abbiamo accelerato di 10 anni questa cosa, ma qui apriremo un dibattito dove stiamo qua fino al giorno merito, e ci copriremo di insulti sui socral, odia o di fascinazione. Fatto sta che con questo virus noi siamo entrati di fatto nel mondo digitale. Io dico sempre, guardate le pubblicità delle macchine, si vendono sempre bene, ma sono quasi tutte elettriche. Io vi ricordo due o tre anni fa gli incontri che facevano il direttore con le grandi aziende, si parlava dell'auto elettrica, ma è una cosa lontanissima. Allora nel mondo proprio che lei rappresenta, la trasformazione è quella forse più viva, o più dolorosa o più importante, è da capire. Allora, chi sono i teorici della vocalisse, che è l'intelligenza artificiale, non l'uomo, ma proprio l'umanesimo, e ci sono quelli che dicono che c'è attenzione, bisogna formare le persone per i nuovi lavori, perché magari la macchina farà i lavori che spesso prima faceva l'uomo, ma l'uomo governerà le macchine con delle conoscenze nuove. E quindi fatta la somma, non so se quantitativamente, quantitativamente, anche i conduttori hanno qualche stanchezza biologica, e alla fine si riesce a tenere quel livello. Però cambia un po' il rapporto del lavoro, direttamente l'apocalittico è più interessante. Allora ecco che il metalmeccanico del 2021, del ventunesimo secolo, non è appunto l'operario che citava prima, ma è uno, è come, io vengo da una famiglia di conterini, quindi andavo sul trattore, poi sono andato a un convegno di confagricoltura, visto che il trattore moderno ha i computer, i dosaggi, la sera, quello della fattoria, come nello spot, pulito, guarda i dati, si guida e si ingestisce a distanza. Non è come mio nonno, inoltre fa una fatica, si alzava le tre, andare, non è una cosa della terra. Allora, però, insomma, il concetto l'ha compreso. Sì, sì, io rispondo subito. Esatto. Il titolo del sindacato è importante. Il tema fondamentale di questa pandemia, io condivido la sua analisi, il tema non è tanto se demonizzare o non demonizzare, il tema è come si gestiscono le transizioni, cioè come si gestiscono i passaggi da un sistema ad un altro sistema. È quello che noi stiamo pagando in questi giorni, in queste ore, in questo momento. No, no, poi, cioè noi stiamo pagando... È una transizione viva, se si fa sulle persone. Allora, o la transizione viene programmata, perché la transizione ha anche effetti, ovviamente, sociali. Certo. Cioè, che tipo di società, che tipo io immagino che si possa verificare. Perché la transizione? Faccio un esempio all'industria digitale, che è una conseguenza. Faccio un esempio che è un po' più, diciamo, più vicino alle persone in questo momento qui, che è lo smart working. Cioè, noi parlavamo di telelavoro, di telelavoro a distanza. Adesso la pandemia ha accelerato. Certo. Un processo dove ci ha colto tutti impreparati. Cioè, nel senso, tutti, le istituzioni, il sindacato, tutti. Perché noi gradualmente, con i tempi che poi sono, diciamo, quelli che ognuno immagina che siano quelli giusti, spostare il problema sempre più avanti e non affrontarlo subito. Quindi noi stiamo gestendo, per esempio, lo smart working. Smart working che inizialmente, appena iniziata la pandemia, i lavoratori hanno accettato e noi abbiamo, ovviamente, certe figure professionali, ovviamente, perché hanno, immaginate, Leonardo il 30%, 30% di lavoratori che sono smart working. Ma anche nella categoria giornalistica. Giornisti che non vanno in redazione da un anno. Certo, lo hanno accettato con, diciamo, con piacere, un po' per il pericolo dell'infezione. L'hanno accettato anche per una condizione, perché no, di comodità. L'idea di stare a casa e lavorare da casa era qualcosa. Man mano che sono passati i mesi, noi abbiamo cominciato ad avere un rifiuto da parte delle persone. Cioè, hanno cominciato a verificare che cosa significava l'ufficio, che cosa significava il rapporto. Tu sei l'angoscio. Che cosa significava l'equipe di lavoro, lavorare in team. Cioè, è chiaro che è un tema che doveva essere affrontato per tempo e che noi non siamo riusciti, ovviamente, ad affrontare per ragioni diverse. Non c'è una legislatura di riferimento. Noi abbiamo rinnovato un rinnovo dei contratti di metalmeccanici un mese fa e non abbiamo potuto, diciamo, andare oltre le nostre responsabilità perché occorre una legge da parte del nostro governo proprio per regolamentare lo smart work che ovviamente crea delle prospettive ma può creare anche delle controindicazioni. Se gestito male può creare superi, può creare delocalizzazioni, può creare lavoratori che li condanni nella propria domicilio. cambia il... L'indotto delle città perché poi ci sono, per esempio, dei risparmi. Movimenti, le condizioni, gli uffici, ministeri, i servizi che ovviamente attengono alla movimentazione delle persone. Quindi il passaggio da un sistema ad un altro deve essere governato e con l'idea non di rifiutare l'innovazione perché l'innovazione è un'innovazione che indipendentemente dalle nostre volontà, poi io sono per innovazione tecnologica, sono per le transizioni, volendo non si può fermare, ma saremo degli sciocchi. Il tema è il tempo necessario per poterlo governare. Spesse volte il tempo non dipende dalle nostre volontà, dipende da velocità. Infatti ho usato disrappio perché disrappio contiene proprio semanticamente il termine di uno sciocco. Però poi una volta che si passa dobbiamo farlo. Volevo concludere questo ragionamento importante, poi andiamo alla prossima domanda. Perché non tutte le aziende sono andate in crisi, perché con questa disrappio qualcuna continua a far soldi. Io vedo quella, quando qualche mio collega che fa giornalismo televisivo ha voglia ancora di fare i reportaggi, se ne fanno sempre meglio, non si parla, ognuno dice la sua, ma quando si va a vedere ho visto un bel servizio in un'industria del Bresciano che ha aumentato perché addirittura gli vengono chiesti pezzi di ricambio per i camioncini che fanno il delivero nel centro Europa. Noi abbiamo l'esempio sicuramente anche in Italia, abbiamo la stessa FCA, la stessa Stellantis adesso, i furgoni, per esempio i furgoni 360 mila. Non tutte le aziende potrebbero licenziare un tema, ma questo sta andando meglio. No, meglio, sì, sì. E qui andando meglio anzi qualcuno assume, perché ho visto anche il reparto dell'industria digitale in Lombardia ho visto i numeri che si parla anche di assunzioni. Sì, sì, di assunzioni. Questo dicono che non bisogna essere schematici. No, 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 assolutamente. E quindi che nessuno faccia al furbo. No, no, no. Lo dico eticamente. Occorre un'idea di governo, perché ci sono, il tessuto nostro italiano, manifatturiero, è cambiato negli anni, dalle grandi aziende, famose a partecipazione statale, con grandi numeri, con grandi aggregati, con anche capacità di fare ricerca, di fare sviluppo, di immaginare, di essere protagonisti del cambiamento. Noi siamo trovati invece a un cambio. Sono l'80% delle aziende italiane sono di piccole dimensioni. È un'azienda di piccole dimensioni, non è in grado di fare ricerca, sviluppo, innovazione. Quindi o ci sono grandi aziende in grado di poterlo realizzare, oppure deve sopparire la politica, deve sopparire il governo. Il governo dello sviluppo economico è un governo che deve avere nel suo interno anche studi e capacità di poter individuare in quale direzione le aziende devono consoziarsi, devono muoversi, perché altrimenti l'inanismo aziendale da un certo punto di vista è molto più snella, è in grado di poter reggere più le sfide del mercato, però ha grande difficoltà nel porsi problemi diciamo di prospettiva. Allora, parliamo ora di vaccini, non le faccio un discorso generale, tanto quello che c'è da dire e lo diciamo e insomma io ho partecipato a un dibattito quasi maniacale sulla strazeneca ma insomma non posso dire di più di quello che vedo come giornalista politico dell'importanza del piano vaccino ne sappiamo proprio se è più una ipotesi di cui si è discusso di fare il vaccino nelle imprese, quindi il vaccino ai lavoratori perché sono anche loro in prima linea e allora farli in loco potrebbe essere un modo diciamo non solo di aiutare il piano vaccinale ma anche un modo di non intasare certe cose e probabilmente con delle regole condivise magari per tutte le regioni e qual è il ruolo del sindacato su questo tema così importante? Qual è la sua posizione? Favorevole, sfavorevole? Una posizione molto chiara io sono favorevole le aziende sono un luogo sociale un luogo di aggregazione lì dove ci sono le aziende si nota un territorio completamente diverso perché è un luogo della solidarietà è un luogo dove i lavoratori impiegati, operai che siano sono sempre diciamo caratterizzati per essere solidali per essere a disposizione per fare anche un prodotto manifatturiero in grado di poter servire al paese quindi noi siamo stati quelli che durante il periodo il primo periodo della pandemia abbiamo diciamo lottato per dire che le fabbriche non sono un luogo di infezione le fabbriche sono un luogo invece sicuro e siamo riusciti a fare dei protocolli che sono stati poi utilizzati anche per altre realtà certo siamo passati dal protocollo dell'eccellenza della Ferrari ma anche a protocolli di Leonardo a protocolli della stessa Ilva anche se era in condizioni drammatiche però siamo riusciti a fare protocolli che hanno che la produzione ha continuato perché lì in quel momento chiudete chiude le fabbriche vanno chiuse vanno chiuse e noi invece siamo battuti per tenere le fabbriche aperte adesso noi continuiamo a mantenere una posizione molto diciamo chiara quello che per noi i lavoratori devono essere intanto considerati lavoratori anche deputati ad essere vaccinati perché sono stati quelli che durante la pandemia continuano ad essere quelli che vanno a lavorare prima deputati ad essere non c'è nessun furbettismo nessun coiuto vaccinato secondo il luogo della fabbrica è un luogo che ha già nella sua organizzazione un qualcosa che è invidiabile cioè ogni realtà produttiva specialmente di grande dimensione ha una sua organizzazione in grado di poter ospitare anche cittadini cittadini sicuramente migliori di un capannone specialmente di una tenda che sono necessarie e quindi il fatto che subito noi abbiamo sollecitato le aziende e le aziende ci hanno dato immediatamente la disponibilità poi saputo che la stessa Confindustria ha realizzato un sondaggio tra le aziende ha trovato disponibilità disponibilità assoluta incondizionata quindi noi siamo oltre a fare anche un'operazione di non di persuasione perché ogni persona però io sarei la prima persona che mi vaccinerei se ti toccherebbe io la penso allo stesso modo e quindi io rispetto democratico dei punti di vista dico che il vaccino va fatto ma il vaccino va fatto e le fabbriche devono essere un luogo dove i cittadini e i lavoratori devono potersi aprire per poter dare un ulteriore contributo non solo alla prevenzione come abbiamo fatto per evitare infezioni ma adesso per poter vaccinarsi no ma è molto importante questo perché ripeto se ne parlava in un tocco l'altro giorno perché oltre alla categoria le altre categorie diciamo gerarchiche per età ci sono altre categorie gerarchiche per il tipo di lavoro e per lavoro quindi se si aiutano le due categorie vacciniamo diciamo prima più italiani noi abbiamo lavoratori che lavorano negli impianti degli ospedali nel prodotto del meccanico tutto il condizionamento la parte elettronica sono affidati ad aziende metallo-meccaniche e non solo beh non si può dobbiamo vaccinare gli infermiere sono stati vaccinati i dottori e ci mancherebbe ma quei lavoratori sono stati vaccinati pure quelli dall'amministrazione delle cose che stavano lì in ufficio ma quei lavoratori lavorano lì e lavorano a mettere a posto gli impianti delle sale operatorie a tenere ma lo sai perché glielo dico si parla tutti i giorni di furbetti del vaccino quando si va a vedere chi anzi capisce se no due o tre casi lampanti di nepotismi o di cose certo tutti quanti hanno il loro diritto però io lo dico prima per i lavoratori è sacrosanto quindi noi riteniamo che i lavoratori debbano essere vaccinati su questo siamo d'accordo senta parliamo di un capitolo che richiederebbe credo una decina di reportaggi per essere affrontato io come giornalista non l'ho affrontato mai del tutto in prima persona quindi mi affido un po' diciamo l'ho affrontato sempre un po' di risulta o dei singoli reportaggi insomma ilva come devo chiamare ex ilva ilva come devo chiamare ilva i cittadini la conoscono sono tarantino dove esiste il stabilimento più grande d'Europa la conosce bene io ogni volta che vado giù al Taranto sento metà dei tarantini che lo guardano come una e altri che lo vogliono e questo è il capolavoro ho capito male il capolavoro che ha fatto la politica quello di dividere esatto allora perché per alcuni giustamente è una fonte di lavoro per altri è un disastro ambientale e questo è il fallimento della politica è un disastro occupazionale indiretto allora leggo per evitare di dire stupitagio il Consiglio di Stato ha accolto ricorso dei nuovi proprietari no? francesi indiani Archer Mittal per cui l'area caldo dello stabilimento siderurgico non sarà spenta quindi quell'area mi sembra che ce ne sia più di una mi sembra era la fonte diciamo della contestazione della magistratura quindi vogliamo ho letto bene e come la vede questa notizia positiva negativa lei cos'è più ambientalista più occupazione io sono per ovviamente non sono solo salomonico metà e metà no perché io sono convinto che nel mondo non che sono convinto sono i dati nel mondo si producono due miliardi di tonnellate di acciaio due miliardi più del 50% viene prodotto da ciclo integrale cioè viene prodotto con la stessa tecnica che viene prodotto a Taranto e quindi l'Europa la Germania i paesi europei producono il 70% da ciclo integrale il resto è da forni elettrici allora se questi due miliardi di tonnellate vengono realizzate vuol dire che ci sono le tecniche per poterle produrre senza che questo possa ammazzare bambini e persone altrimenti e adulti altrimenti non penso che tutti sopporterebbero il sacrificio di far morire persone quindi io ritengo che a Taranto c'è stato un periodo dove il tema è stato affrontato con una coralità perché non ci può essere chi è d'accordo alla vita e chi è contro la vita il lavoro e la vita devono andare insieme il lavoro non può essere alternativo nella priorità cosa viene prima il lavoro la vita viene la vita e ci mancherebbe cioè la vita è a chiunque però il tema è mai metterlo in contrapposizione perché se uno mette in contrapposizione il diritto alla salute è sbagliato se è possibile conciliarlo esiste la tecnologia in grado di poterlo fare bene se non esiste il tema però è questo il tema è adesso dopo tante peripezie il sindaco di Taranto si è rivolto al consiglio di Stato per poter chiudere l'aria a caldo perché a suo secondo le sue indagini ha verificato che lo stabilimento continua a inquinare il consiglio il tar di legge gli ha dato ragione e quindi entro 60 giorni bisognava chiudere l'aria a caldo chiudere l'aria a caldo significa chiudere lo stabilimento perché l'altra aria si giustifica solo se c'è una produzione finalmente ce l'ha spiegato bene quindi di dire certo non puoi dire in quel caso quanti posti avremmo sacrificato? ma lì avremmo sacrificato solo a Taranto solo Taranto però siccome Taranto produce l'acciaio anche per gli altri stabilimenti Genova Novi Ligure Marghera altri 5 stabilimenti significa ovviamente mettere in discussione migliaia di posti quanti posti di lavoro diretti circa 13 mila persone sparse in Italia poi con quelli indiretti c'è chi dice 20 mila c'è chi dice 19 c'è chi dice comunque i numeri sono sicuramente importanti il Asselor Mittal e i commissari si sono rivolti al Consiglio di Stato il Consiglio di Stato ha sospeso la fermata entro 60 giorni dell'area a caldo ovviamente il 13 maggio ci sarà il giudizio di merito perché nel giudizio di merito il Consiglio di Stato dovrà il tema è quando si arriva al Consiglio di Stato vuol dire che tutte le parti hanno fallito forse anche un pezzo di sindacato quindi faccio mia colpa senza voler dare colpe agli altri cioè nel senso che il Consiglio di Stato non decide cosa provoca da un punto di vista dei posti di lavoro del reddito decide se c'è stata una violazione di reato quindi persegue il reato e quindi affidarsi al Consiglio di Stato è incompleto e la siderurgia italiana che continua ad essere un settore molto profitero l'anno scorso noi abbiamo importato nonostante la pandemia a proposito di settori che andavano bene abbiamo importato 5 milioni di tonnellate di acciaio cioè significa l'equivalente produzione allo stabilimento di Taranto con tutti i danni ovviamente alla nostra economia a tutte le aziende che ci chiedevano vogliamo l'acciaio vogliamo l'acciaio ma l'acciaio purtroppo almeno i laminati piani non si producono li produce solo ed esclusivamente Arvedi ma l'Ilva purtroppo ha prodotto ecco lei ha detto una cosa importante poi davvero visto che al tempo l'abbiamo già azzerato e siamo appena neanche quasi alla quarta domanda di più o meno tra virgolette del nostro percorso logico quindi adesso acceleriamo un po' sì 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 la responsabilità la politica e per questo dico che certe volte se noi chiaro una multinazionale viene sul nostro territorio e si prende degli impegni deve rispettarli e deve rispettarli sul piano anche ambientale poi dopo non possiamo giocare e scoprire all'improvviso che le multinazionali sono cattive sono cattive invece certo preferiscono produrre guadagnare risparmiare e licenziare e smaltire diciamo allora non possiamo avere la sorpresa politica di questo o non li facciamo entrare o mettiamo tutto oppure li controlliamo oppure li controlliamo questo è quello che dico oltre diciamo il buonsenso di mettere insieme il lavoro e la vita allora andiamo avanti il recovery fund tema importante sì lui si è discusso molto è transizione ecologica ci siamo non si è parlato di sostenibilità di fatto quando parliamo di salute e di ambiente vogliamo dire che il nuovo capitalismo non può essere più scisso da questo tema che oramai questo si appartiene al ventunesimo e i soldi del recovery però sono tanti da questo punto di vista e la voce se non sbaglio circa più di 70 miliardi se poi vengono mantenuti quindi ci sarebbero i soldi nei prossimi anni per sopperire a questa transizione che ne pensate? ma io penso che le risorse sono tante ma se non vengono spese bene vengono progrediate bene noi perdiamo una grande opportunità quella di ammodernare il paese e quello di affrontare la transizione e i cambiamenti tecnologici ambientali di sistemazione del territorio rischiamo di perdere se perdiamo quella opportunità vuol dire che il nostro paese veramente e quindi i cittadini del nostro paese subiranno delle conseguenze noi siamo stati sentiti dall'ex ministro Patuanelli nell'agosto dell'anno scorso abbiamo presentato come metalmeccanici forse siamo stati gli unici ad aver avuto questo privilegio se così si può dire e noi abbiamo presentato dei nostri progetti i nostri progetti che riguardano ovviamente cose concrete riguarda il nostro settore riguarda l'automotive riguarda la siderurgia riguarda l'aerospazio riguarda le infrastrutture telecomunicazioni riguarda l'innovazione tecnologica che sono temi li ho detto rapidamente ma che ovviamente penso che siano temi che possono convergere ma tanto a quanto degli esempi concreti perché sai quando si parla di questa transizione ecologica io glielo dico da giornalista non sono un sindacalista ognuno fa il suo logo io voglio le parole e quei campi semantici delle parole sono quelle parole come sostenibilità che vuol dire tutto e niente allora dobbiamo sempre metterle a terra e dargli delle voci per far capire anche ai cittadini quanto invece sono importanti le cose io ho dovuto fare un'intervista qui alla responsabile dell'associazione delle imprese che producono l'acqua e minerali per scoprire che molte delle tematiche sulla plastica sono ideologiche e non sono in realtà ecologiche e quindi anche su questo caso fare degli esempi allora mi associo a quella che era l'ultima domanda che proprio le faccio la penultima per ultima queste proposte che avete portato a Patuanelli ora che c'è il governo Draghi che fine hanno fatto e questo governo che ha il compito uno dei due compiti indicati da Mattarella portarci fuori dalla pandemia e gestire i recuperi com'è? com'è questo Draghi con le parti sociali? avete avuto già i conti si sono perse le cose è un governo che tiene conto del già fatto è stato sicuramente insomma più disponibile Draghi o un conto è che la riga in maniera un po' brusca qui il problema non è la disponibilità il problema è se poi le cose che noi diciamo vengono prese in considerazione quindi sicuramente l'approccio di Draghi poi ognuno ha un approccio diverso però l'approccio di Draghi è stato un approccio di tenere in considerazione quelle che le organizzazioni sindacali hanno diciamo più volte denunciato noi ci auguriamo che sul recovery fund ci sia una attenzione da parte del governo in carica visto che è un governo che vede la maggior parte delle forze politiche nel suo interno la possibilità che i temi che noi abbiamo sollevato poi possono anche non essere presi in considerazione però noi vorremmo diciamo sapere e conoscere in quale direzione il governo è indirizzato perché in questo momento qui come dicevo prima ci giochiamo molto delle nostre credibilità comunque noi abbiamo tanta fiducia agli uomini di questo governo in modo particolare non perché Conte Conte è stato sicuramente una persona a cui noi abbiamo collocato che abbiamo collocato anche tanto non esprimerei assolutamente un condizio negativo dico la verità io qualche volta sono stato molto critico su alcune cose del governo Conte e dico che è inutile esserlo ora che il Conte non può dialogare con noi nella sua funzione quindi è giusto riconoscere per questo dico anzi secondo me è giusto che chi viene dopo prenda il meglio di quello che è stato fatto la porta in avanti migliorandolo io sempre ho fatto così se vado in ragazzo ho trovato un lavoro già fatto non è perché non l'ho fatto io lo non è buono e lo butto via questa è una cosa stupida allora ultima domanda e a proposito oggi è giovedì domani non voi ma c'è un incontro importante proprio al Mise che è uno dei ministeri preposti e lì si svolge diciamo un po' c'è qualcosa che riguarda la storia di un altro polo industriale che è storico una di quelle parole che tutti conoscono termini merese stavolta diciamo è l'incontro con l'amministrazione storia di Blute e insomma lì si gioca un po' adesso io un po' la storia ma la so letta ci sono dei soldi che sono stati stanziati che poi erano previsti anche lì per un'innovazione che poi la proprietà non ha fatto e allora questi soldi sono stati bloccati perché se no addirittura si rischia un reato e con ciò si ho capito proprio così alla fine però che facciamo? allora noi una volta per tutti intanto una storia una storia che dura da oltre dal 2011 da dieci anni da dieci anni cioè i lavoratori si sarebbero sicuramente stancati e invece i lavoratori di termini merese hanno continuato diciamo a lottare e dal primo giorno non l'hanno fatto per avere un reddito cioè non l'hanno fatto per avere un sussidio cioè loro l'hanno fatto con la determinazione di avere un presidio di lavoro una fabbrica cioè loro hanno continuato a lottare volendo a tutti i costi e noi ovviamente li siamo stati diciamo li siamo stati vicini abbiamo lottato insieme a loro quello di continuare ad avere la produzione della all'epoca della Ypsilon che era comunque una delle un'auto e nessuno ci ha detto perché quello stabilimento è stato chiuso è uno dei drammi che i lavoratori non si perdonano e non ci perdonano e non perdonano alla politica cioè quello perché siete fuori mercato non siete bravi la fabbrica no loro hanno sempre difeso la fabbrica perché hanno avuto la possibilità di produrre e di produrla anche bene poi c'è stata questa decisione all'epoca di Fiat poi FCA di chiudere la fabbrica tutti i progetti che si sono avvicendati hanno avuto sempre uno scopo quello di andare lì prendere le risorse e non realizzare l'investimento l'ultimo consorzio che è stato nominato il famoso Smart City Group anche loro volevano che i lavoratori fossero licenziati tutti e poi una volta licenziati dovevano riassorbirle noi ci siamo apposti e ci opporremo perché per noi quella è la fine noi riteniamo che ci siano le condizioni anche di una diversificazione produttiva adesso perché no ma la diversificazione produttiva deve essere credibile deve riguardare tutti i lavoratori e noi ci aspettiamo che domani il governo il nuovo ministro che si è diciamo insediato da qualche da qualche giorno prenda effettivamente in mano il dossier di Termini Merese e dia come si suol dire il suo indirizzo preciso non vorrei essere sempre nel posto di questo povero Giorgetti si lo so che da quando è arrivato vedo il suo nome tutti i giorni sulle ronache si è trovato una quantità di dossier aperti aperti terribili da delle localizzazioni si 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 embraco storie che riguardano ripeto aspetti complessi e lì bisogna da solito sono 170 mi sembra dossier aperti si si se poi facciamone lei io non voglio fare l'elenco però diciamo questa cosa questo stabilimento per Termini Merese assume anche una dimensione di una comunità e lì bisogna venirne fuori con una indicazione chiara e precisa se ci sono dei progetti alternativi noi non faremo licenziare per nessuna ragione i lavoratori e questa deve avere una visibilità sul piano produttivo sul piano dell'impiego dei lavoratori ci siamo sempre opposti a spezzatini ci siamo opposti a scegliere di fiore in fiore cioè per noi diventa determinante anche se non saremo noi presenti domani come il ministro domani concluderà o i ministri visto che ci saranno più ministri di come concluderanno loro questa riunione per noi la difesa occupazionale la difesa di quella comunità per noi diventa un imperativo non possiamo assolutamente sbagliare perché adesso la situazione è veramente una situazione di non ritorno senta allora io la ringrazio insomma il tempo è andato via pensavamo che fossimo troppo tecnici in realtà quando si parla del lavoro è una cosa che riguarda la vita di tutti e se posso aggiungere una mia piccola cosa della mia posizione giornalistica anche nei miei articoli dico sempre che anche nella pandemia non ci dobbiamo mai dimenticare che la nostra costituzione è stata scritta intorno al di là del diritto alla salute che va da sé come abbiamo detto per Taranto intorno però a un diritto fondamentale che è il diritto della dignità e il diritto questo non lo dobbiamo mai dimenticare perché che si è sindacaristi o si è imprenditori o si è politici senza questo elemento la storia di un cittadino che per me è la moneda essenziale di una democrazia è una storia triste grazie segretario dell'unione italiana lavoratori e metalmeccanici l'ho imparata a memoria grazie ho fatto un piccolo passo in avanti grazie a voi di più o meno che ci avete seguito appuntamento ovviamente alla prossima puntata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti